Quando arriva, quando arriva Torna l'agosto a Corropoli con musica dal vivo e stand gastronomici Dal 31 luglio a 6 agosto, gran finale 5 e 6 agosto nel centro storico Corropolis Band, il festival delle marching band e delle follie musicali Tantissimi ospiti, dal carillon vivente all'istrionico Max Paiella Le scorribande della Disky Frisky e della Assassin Funky Band Con la simpatia e la bellezza di Natascia Stefanenko Grande evento di chiusura con la Mabob Band e centinaia di palloni colorati Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli per info 328 96 16 994